Mi chiedo di salire sul palco, di cosa sono molto orgoglioso. Questa sera il Comune di Lerici consegna a due grandi uomini, due importanti uomini da fare, ma soprattutto due uomini con un grande cuore, la cittadinanza onoraria. Cosa rappresentano queste due figure per il territorio di Lerici? Rappresentano ciò che Lerici rappresenta nel mondo, c'è un luogo di alta qualità dove chi ha capacità e apprezza il bello decide di vivere, ma non solo di viverci, ma di essere vicino alla cittadinanza. Sia Massimo Perotti che Leonik Boguslaski hanno dato un contributo importante per i Lericini nel periodo della pandemia. Mi sarebbe piaciuto molto conferire questo premio in piazza, in piazza Garibaldi, ma purtroppo ancora le prescrizioni Covid ci impongono di farlo qua, in un luogo più contenuto. Però insomma sono orgoglioso di avere dato, attraverso anche il nostro Consiglio Comunale, un riconoscimento così importante a così due grandi uomini. Qualche anno fa è venuto a Lerici e si è subito innamorato del paesaggio, della città, delle persone. E sinceramente non si aspettava di questo riconoscimento. È contento, è felice di essere a Lerici. Mi sono messo a disposizione, ho chiesto quindi al sindaco e al comune che cosa potevo fare per aiutare la città a essere migliore. E quindi ogni anno riusciamo ad individuare un piccolo investimento che mi permette di rendermi utile verso il paese di Lerici, verso i cittadini. Non li conosco tutti, purtroppo lavoro molto e quindi sono raramente in Lerici. Lerici Lerici